Più di 8.000 morti, 300.000 profughi in fuga dalle terre della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia, 109 campi profughi sparsi in tutta la penisola. Non bastano i numeri a raccontare la tragedia delle foibe, le violenze, le persecuzioni che i partigiani di Tito misero in atto nei confronti degli italiani dopo i trattati di pace di Parigi del 1947, che assegnavano i territori italiani di Istria, Zara e una parte della Venezia Giulia alla Jugoslavia. A Torino cerimoni in ricordo delle vittime al cimitero monumentale, alla presenza dei rappresentanti di città e regione e di chi ha vissuto in prima persona l'esodo e la persecuzione. Abbiamo subito, personalmente no, ma i nostri avi veneziani, austriaci, non erano tanto dolci diciamo quei comportamenti verso l'italianità e quindi noi ci hanno trasmesso nel DNA questi anticorpi per poterci difendere da tutto quello che succede, da tutto quello che sentiamo fuori e ci addolorano queste cose perché quando dei italiani negano quello che è successo ad altri italiani ci dispiace. Una persecuzione, quella di Striani e Dalmati, che solo nel 2004 l'Italia ha ufficialmente riconosciuto, istituendo per legge il giorno del ricordo, celebrando il 10 febbraio la memoria di una tragedia alla quale, come ha avuto modo di dire il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i contemporanei non attribuirono per superficialità o per calcolo il dovuto rilievo. Rappresenta quello che noi sempre abbiamo sentito, che abbiamo sempre ricordato, solo che diciamo istituzionalmente dà più importanza a questa cerimonia.